Per ricevere la medaglia dei principi e dei numeri in oro, il nobile commentatore Andrea Corella. Andrea Corella ha scolto da diversi anni il ruolo di editore dell'annuario della nobiltà italiana nel quale ha dimostrato grande competenza nel complesso settore dell'arabica. Nel principio il primo imperatorio che riporta in una sezione specifica durante l'esamina sulla realità legata di Portone Barba in tre ordini dinastici, in occasione delle cerimonie di tumulazione del principale Maria Teresa e Cecilia oltre che di Alessandro Parnese e sua moglie Maria Diadizzi, apprestando gratuitamente il suo generoso contributo attivandosi materialmente nella costruzione di dipinti aralpici di struttura ornamentale oltre che a livello di consulenza storico-dinastica per realizzare insieme al cerimoniale della Casa di Portone Barba a degli eventi di elevatissimo livello.